È stata invasa dai Bambi Natale, è tornata infatti la Trento Christmas Run che ha coinvolto centinaia di runners vestiti da Babbo Natale in corsa lungo il tracciato di 4 km disegnato nel centro cittadino attorno a Piazza Duomo, un percorso senza traffico accompagnato dalle note della fanfara degli Alpini a risuonare dalla partenza all'arrivo la manifestazione a scopo benefico a sostegno di associazioni di volontariato sociale al termine della corsa è stato acceso l'albero gigante con una dedica speciale a Chico Forti alla presenza delle autorità locali, amici e persone che appoggiano Chico e del suo ritorno in Italia hanno avuto l'occasione di partecipare alla corsa e a ritrovarsi per mandare anche un augurio di Natale a Chico che ancora si trova bloccato negli Stati Uniti d'America